Gentili telespettatori, buona giornata. Vediamo le ultimissime notizie sull'elezione del Presidente della Repubblica che inizierà tra pochi minuti. Iniziano così oggi le votazioni per eleggere il tredicesimo Presidente della Repubblica, la convocazione di Roberto Fico, Presidente della Camera, e per oggi alle 15. La procedura di voto, già normalmente complessa, è stata ulteriormente complicata quest'anno dalle norme messe in atto contro la pandemia Covid. I partiti arrivano all'appuntamento del primo voto senza un'intesa su un nome. Molto probabile dunque che oggi la stragrande maggioranza dei grandi elettori voterà scheda bianca. Le trattative tra i leader di partito sono però in corso e la giornata, prima e durante e dopo il voto, sarà colma di incontri e telefonate. Partiamo da questa mattina alle 9 e la rinuncia di Silvio Berlusconi a candidarsi, cui potrebbero avere contribuito problemi di salute. Da giorni l'ex Premier, sottoposto esami all'ospedale San Raffaele di Milano, ha esposto la necessità per tutti i leader di partiti di riposizionarsi. Come è scritto da Adriana Logroscino, al centro della scena al momento si muovono i leader del PD, Enrico Letta, quello della Lega Matteo Salvini, che oggi si dovrebbero incontrare. Il leader leghista dopo una lunga e cordiale telefonata con Berlusconi è al lavoro su una rosa di nomi sui quali, dice, non accetterà Veti. Nell'elenco spiega non ci sarà Casini né al momento il Premier Mario Draghi, perché toglierlo da Palazzo Chigi sarebbe pericoloso. Il segretario del PD nella serata di ieri ha spiegato che il primo punto della mia conversazione con Salvini sarà capire se la posizione contraria a Draghi al Quirinale sia ultimativa. In subordine torna a profilarsi almeno nelle intenzioni di Letta, un Mattarella bis sarebbe la soluzione perfetta. Il retroscena poi di Francesco Verderami sul Corriere della Sera spiega come si delinie. In situazione tra la quarta e la settima votazione, il bivio per i partiti sarà rappresentato dai nomi di Draghi e di Casini. La candidatura di Belloni, Matteo Renzi, che nella giornata di ieri in TV aveva ritagliato per sé un ruolo minore questa volta dopo aver definito senza chance la candidatura di Andrea Riccardi, avanzata ieri da fonti del PD e dall'ex Premier Giuseppe Conte, ha parlato questa mattina a Radio Leopolda dello schema del centrodestra. Quel fronte, ha spiegato, deve costruire una candidatura che cresca Mattarella nel 2015. Partiva da 400 voti, poi crebbero arrivare a 650. Contano anche i trend, altrimenti i leader del centrodestra dimostreranno di essere buoni a giocare le partite di precampionato e non la Champions. Parlando del nome di Elisabetta Belloni come possibile candidata al Quirinale, qui starebbe pensando Matteo Salvini. Roberto Giacchetti, nel corso del colloquio con Renzi, ha sollevato l'obiezione che l'ambasciatore attualmente guida i servizi sagreti. Sarebbe un passaggio da Unione Sovietica. Anche Fratelli d'Italia verso la scheda bianca, probabilmente voteranno scheda bianca, ma dobbiamo ancora deciderlo, l'ha detto Ignazzo e la russa arrivando alla riunione dei grandi elettori, i Fratelli d'Italia con Giorgia Meroni. Bloomberg si schiera con Draghi. Draghi è stato al governo per quasi un anno, ha guidato l'economia italiana e a raggiungere un tasso di crescita del 6,3%, ha organizzato una delle campagne vaccinali di maggior successo in Europa, ha avviato riforme per affrontare, dice Bloomberg, ha iniziato appunto riforme per affrontare problemi strutturali dell'Italia come la burocrazia eccessiva, il sistema giudiziario lento. Draghi potrebbe ritenere che il modo migliore per preservare in futuro i risultati della sua azione di governo sia diventare Presidente della Repubblica, un ruolo che dura sette anni, così la Bloomberg nel giorno in cui si inizia a votare. Matteo Salvini si fa vedere in giro con una mascherina tricolore con la scritta Vince la squadra, dice il dono di una suora che prega per noi e per l'Italia, dice il leader leghista, quindi ha una suora che prega per lui. Beh, intanto andiamo a vedere che è pronto il gazebo per gli elettori positivi al Covid nel parcheggio di Montecitorio, ci sono dei tendoni bianchi dove dovranno votare gli elettori, grandi elettori, una parte di quei 1.009 che sono risultati positivi. Intanto il Financial Time, Draghi, resti ai vertici dello Stato. Iniziato il trasloco di Mattarella, in corsa a Palermo, il trasloco del Presidente della Repubblica davanti alla sua casa di Via Libertà, sono al lavoro operai di un'impresa specializzata di Roma che sta caricando mobili e suppellettili su un loro camion per portarli nella nuova abitazione del capo dello Stato, nella capitale. Il Presidente Mattarella è ancora nella sua abitazione palermitana e non è ancora certa la data del suo rientro a Roma. E poi per il voto e lo spoglio necessarie sei ore. Immaginatevi, comincia alle tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, per le nove di stasera. Sapremo che non se ne farà nulla oggi dell'elezione. Conte no veti se nome di alto profilo. L'obiettivo è preservare la tenuta del governo? Lo ha detto il leader politico Cinque Stelle, Giuseppe Conte. Non poniamo veti su nessuno se il nome di alto profilo. A breve è previsto un nuovo vertice tra Conte, Letta e Roberto Speranza. Conte precisa alle 11.40. Conte Draghi resti al governo. Stoppa di nuovo il trasloco di Mario Draghi da Palazzo Chigi al Quirinale. L'obiettivo è preservare la continuità dell'azione di governo o forse preservare la continuità dello stipendio dei parlamentari. Forse è la frase più corretta. Tagliani dice no veti su candidati del centrodestra. Meloni dice che il centrodestra è unito e può condurre la partita. Il centrodestra da solo non ha i numeri per eleggere il capo dello Stato, ma se rimane compatto può sicuramente condurre la partita. L'ha detto la leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, secondo quanto si apprende durante la riunione con i grandi elettori del suo partito. Comunque Vagada sosterremo il ritorno alle urne. PD, Leo e Movimento 5 Stelle confermano la scheda bianca e poi vediamo che sessa subentra a Fassano. I grandi elettori tornano 1.009. E poi andiamo a vedere il terzo scrutinio mercoledì alle 11.00 e quanto ha stabilito la conferenza dei capogruppo di Camera e Senato. Il nuovo calendario prevede dunque per domani, seconda votazione, la convocazione alle 15.00. L'orario è stato mantenuto per consentire la partecipazione ai funerali del deputato di Forza Italia, Vincenzo Fasano, a partire da mercoledì. Invece l'orientamento è di far partire gli scrutini sempre alle 11.00. Fonti del PD via al dialogo vero con il centrodestra. Si tratterà di un primo contatto tra gli esponenti degli opposti schieramenti. Al drive-in nel parcheggio di Montecitorio attesi 12-15 elettori. Anche Forza Italia e Lega parlano di scheda bianca. incontro Salvini-Draghi in mattinata. Si sarebbe incontrato appunto Draghi con Salvini. Fonte di Palazzo Chigi interpellate in proposita hanno replicato con un no comment. Il faccia a faccia non si sarebbe svolto nella sede del governo. Grazie a tutti e buon proseguimento di giornata. Grazie a tutti.